Da gennaio sono aumentate luce, gas, hai già ricevuto le prime bollette? Ho ricevuto quelle di dicembre, però già c'era un aumento e adesso ho consegnato ora le letture del gas di gennaio e mi aspetto un aumento irragionevole. E dico che quei delinquenti che sono al governo e che noi purtroppo abbiamo eletto, pensano solo allo loro stipendio e alle loro prebende e noi ce la prendiamo puntini, puntini, puntini. C'è anche chi si leggeva sul giornale che addirittura per rispegnare il gas va già sin da ora a letto alle 5 del pomeriggio. Sì, così dopo siamo sotto le coperte e non consumiamo il gas, però è peggio perché se spegniamo la caldaia poi ci vuole il doppio per riportarla a temperature. Ancora non ho ricevuto nessuna bolletta, però ci sono dei rincari che sono una cosa esagerata, sia sul genere alimentare che in tutto. È aumentato tutto, benzina, gas, è una cosa che non si sopporta. Quanto spende in più per un pieno rispetto a prima? Quasi il doppio, quindi spendevo 15 Euro, adesso spendo 30 di metano, perché io vado a metano. Fortuna che noi siamo in famiglia, siamo io e mia moglie, tutti e due pensionati, bene o male, riusciamo a tirare avanti, ma se no chi è a reddito fisso è una cosa esagerata, che ha solo un reddito non riesce ad andare avanti, specialmente se ci sono i figli piccoli, è una cosa… I rincari arriveranno a marzo-aprile? Così dice lo Stato, noi speriamo di tenere botta anche con i prezzi, di tenere prezzi buoni per i nostri clienti che abbiamo fissi, perché oramai sono 20 anni che stiamo qua e quindi cerchiamo di venire incontro anche ai clienti, chiaramente, se devi mettere una roba a 2 Euro, cerchi di mettere un Euro e mezzo per poter aiutare la gente, perché comunque si vede che comprano poca roba, meno roba e di conseguenza ne risentono, ne risentono che non arrivano a fine mese. Certo, adesso anche la situazione pandemica non aiuta. No, per niente, per niente la gente è spaventata, ti arriva qua e li vedi proprio persi, non è semplice, un periodo così in 20 anni che sono qui a vendere non l'ho mai visto, mai, 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 sempre peggio purtroppo. Sì, è da settembre che noi abbiamo visto che hanno iniziato ad aumentare, per poi arrivare l'ultima bolletta è stata una bella mazzata. E aspettiamo un po' cosa succede per poi decidere da farsi, insomma. E appunto come dita, come affronterete questa situazione? Per il momento restiamo fermi, vediamo, aspettiamo se poi, come dicono, a marzo questi rincari dovrebbero abbassarsi, quindi cerchiamo di tenere duro. Se non è così, se non fosse così, purtroppo qualcosa succede, qualche momento qualcosa verrà fatto, ma non a cuore del giro. Cioè 500 e passa euro per un bimestre, non sono svenuto perché non svengo di solito, però non mi aspettavo una batosta di questa poca. Pensi più avanti? Penso più avanti e penso poi quanto arriverà anche l'Enel e tutti gli altri, però ce l'avevano già preannunciato, però sopravviveremo anche a questa. Grazie. Grazie. Grazie.